Radio Radio by Night Roma presenta i nuovi talenti della nostra romana Vai contro i mostri lanciati da beca E vai il tuo corpo d'acciaio s'ambeva Con te la razza umana morirà E il cibo che sei perché la terza che combatte con te Dentro te Va, distruggi il male, va 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 Non le armi tu hai, non arrenderti mai Perché il bene tu sei secondo noi Vai Va Sì 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 Grazie a tutti